Ciao a tutti, vediamo in questo video il comportamento che lo rende innamorato e attratto da te, controintuitivo. In questo video voglio spiegarti un comportamento controintuitivo che lo rende innamorato ed attratto da te. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai dare un sostegno al canale con semplici abbonamenti base, partecipare ad apposite live, ma inoltre avrai la possibilità di partecipare al mio seminario online che sarà venerdì 30 ottobre, dalle ore 20.30 alle 23, il mio seminario online, quindi sull'imprinting emotivo e come gestirlo nella seduzione. Quindi venerdì 30 ottobre vatti abbonare al canale, tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e poi selezioni seminari online. Il video sarà in diretto venerdì 30 ottobre dalle 20.30 alle 23, ma poi ti durerà per un mese intero, quindi avrai tutto il tempo di vederlo, stravederlo e rivederlo. E adesso, quindi, se ti vuoi abbonare basta scrivere nella home page, se non vedi il tastino con l'app del cellulare o con il computer e ti abboni a seminari online. E adesso veniamo al, diciamo, il comportamento che lo rende dipendente da te. Ma più che dipendente lo rendi innamorato e attratto da te. E' un comportamento controintuitivo. Allora, intanto devi tenere presente un fatto fondamentale, una cosa fondamentale, che gli uomini, maschi in generale, amano la sfida. Quindi amano la sfida, cosa vuol dire? Che stendono a coinvolgersi quando una donna non si dimostra eccessivamente disponibile nei loro confronti. Quando una donna è praticamente nei loro confronti indisponibile. Quando una donna nei loro confronti è, diciamo, nega quelle che sono, possiamo dire, le loro certezze. Fin tanto che hai delle certezze, non ti coinvolgi. Questo devi tenerlo presente. Fin tanto che un uomo ha delle certezze, non si coinvolge. Perché ti tiene nel dimenticatoio, fondamentalmente. Cioè ti dà per acquisita. Quindi la sfida che devi lanciarla è non mi piaci più di tanto. Non sono coinvolta più di tanto con te. Non ti lancio la sfida. Potrai avermi, ma adesso forse vado con un altro. Quindi devi giocare il gioco della seduzione. Quindi giocare il gioco della seduzione vuol dire mettere in atto delle tecniche in cui tu mentalmente sei distaccato. Puoi naturalmente applicare una tecnica che si chiama push-pull. Il push-pull è una sorta di tira e molla. Ogni tanto ti manifesti, ogni tanto non ti manifesti. Ogni tanto lo lasci nel suo brodo e ogni tanto riappari. E giochi le partite su più fronti. Tieni presente che quando poi un uomo è innamorato, te lo dimostrerà mettendo in atto dei comportamenti da uomo innamorato. Cosa vuol dire mettere in atto dei comportamenti da uomo innamorato? Beh, è semplice. Tieni presente che quando un uomo è innamorato, tutto il resto è in secondo piano. Non pensare che un uomo sia innamorato e da innamorato, come possiamo dire, non sia disponibile nei tuoi confronti. Sei innamorato, è disponibile nei tuoi confronti. Questo è un punto fondamentale. La negazione dell'amore è la paura di perdere una persona. Quindi devi utilizzare molto, come dire, la tua forza interiore. Vedi questa storia, questa relazione, come un campo di addestramento per addestrare, per fortificare la tua forza interiore. La tua forza interiore è fondamentale. Devi essere, diciamo, devi essere attiva, devi frequentare persone, devi fare delle cose, devi avere delle passioni. Anche di questi tempi che magari è più difficile avere delle passioni offline, però diciamo che puoi iniziare ad incrementare magari i contatti online, iniziare magari a diventare più attiva, a crearti magari una pagina Instagram un po' più glamour. Non sembra, ma glamour non vuol dire, diciamo, dove... Però una pagina Instagram dove sei più seduttiva, dove sei più, come dire, interessante. E questa è un'altra cosa molto importante, perché se tu riesci ad avere, diciamo, il tuo seguito, se tu riesci ad avere le persone che ti ammirano, gli ammiratori, beh, questo ti facilita molto la vita, perché, diciamo, interviene il meccanismo di preselezione. Quindi, paradossalmente, più un uomo ti interessa, meno devi farti vedere interessata, meno devi farti vedere coinvolta. Però non è che devi farti vedere disinteressata. Il gioco della seduzione è un po' il tira e molla. E soprattutto la sfida, anche se hai già avuto una relazione magari con questa persona e tu dici, beh, oramai, che ne so, ci sono già stato a letto per dire. Non importa, perché, come dire, se tu sparisci e non ti fai più sentire, per un uomo potrebbe essere anche la conferma del fatto che non ti ha pagato più di tanto. Quindi questa è un'altra cosa fondamentale. È molto importante avere questa voglia di giocare e voglia di mettersi in gioco. Usa il no, usa il no molto spesso, e il no lo utilizzi in alternativa al sì. Il no diventa il pilastro fondamentale del condizionamento operante. Cos'è il condizionamento operante? È il rinforzo intermittente di Bandura e Skinner. Ogni tanto ti dico sì, ma più spesso magari ti dico no. Più spesso non sono disponibile. Ma è sbagliato dire sempre no, perché poi scatterebbero meccanismi di difesa. Per cui, quando dici no, magari trova anche una scusa plausibile, o meno plausibile, non ha tanta importanza. Anzi, se lui ha il dubbio che sia veramente una scusa inventata, ancora meglio. Però non deve avere la certezza. Quando gli neghi la possibilità. Se lui non ti cerca, devi aspettare finché ti cerchi. Cioè, intanto, nel frattempo, lavori su più fronti. Ecco, queste strategie sono fondamentali per riuscire a a far innamorare un uomo e attrarlo a te. È controintuitivo, ma questi comportamenti veramente lo rendono innamorato ed attratto. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare con semplici abbonamenti base per dare un sostegno al canale, ma anche con l'abbonamento seminario online. Non puoi perderti questo fantastico seminario online che farò venerdì 30 ottobre dalle ore 20.30 alle 23 su questo canale sarà proprio l'utilizzo dell'imprinting emotivo delle emozioni per sedurre, ma per sedurre anche te. Questo è molto importante e inoltre ti ricordo che il canale, cioè il video sarà in diretta venerdì 30 ottobre dalle 23 alle 23 ma poi ti resterà per un mese quindi potrai vederlo, stravederlo e rivederlo. Ciao a tutti, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!